E ora sentiamo, qual è il mammifero che si avvicina di più alla razza umana? Il gorilla! Qual è il più antico progenitore della razza umana? Lo scendione! Sai dirmi chi ha costruito la muraglia cinesi? Beh, un sacco di cinesi! Bravissimo, bravissimo! Ormai sei diventato un vero genio! Sto forse sognando!